Il Benfica vince anche contro l'Onca 2-0 e quindi si guadagna la semifinale. Siamo in compagna di Montoya che è uno dei giocatori della squadra portoghese. Un bel gioco, hai vinto 2-0, quindi cosa su questi tre giocatori che hai vinto? E quindi saranno nella semifinale di questo torneo? Era un buon gioco, in primo gioco era un po' difficile, non potevamo giocare il nostro gioco perché hanno giochato un altro gioco, un gioco differente. Ma nella seconda gioco abbiamo fatto un po' fatica nella prima frazione e dopo si sono ripresi nel secondo tempo e hanno giocato il calcio che piace loro, quindi palla a terra e di conseguenza sono riusciti a trovare la vittoria. Quale è il team che ti ha sciocato più? Perché hai visto Roma, hai visto Onca, quindi qual è il team che ti ha sciocato più? Roma è molto buono, hanno buoni giocatori, buoni giocatori individuali e AC Milan è buono in Parma. Ok, gli ho chiesto quali erano le squadre che magari lo avevano colpito maggiormente e mi ha risposto Roma, Milan e Parma. Ovviamente io adesso auguro un bocca al lupo alle ragazze del Benfica, quindi sono nice to meet you e un bocca al lupo. Grazie.